ci sono uomini straordinari che arrivano all'improvviso a illuminare le tenebre come meteore a squarciare il velo dell'oscurità uomini imponenti come fari che indicano nuove strade all'orizzonte sono uomini misteriosi carismatici come addetti alla manutenzione dell'universo in grado di trasformare la loro visione del mondo in realtà uomini come minuscoli granelli di sabbia capaci per un attimo di inceppare l'ingranaggio del potere di fermare la ruota gigantesca che macina le vite delle persone vite di cui non rimane traccia nei libri nemmeno una nota a fondo pagina è la fantasia di dio che aggiunge qualche riga al romanzo della storia perché questa è una storia che se non la senti non ci credi e se non te la raccontano non la sai la storia di david lazaretti il cristo della miata